buongiorno benvenuti a questa settima edizione del gluten free expo seconda edizione di lactose free expo e invito qui vicino a me la dottoressa patrizia cecchi direttore exhibition di italian exhibition group buongiorno benvenuti abbiamo questa manifestazione che in qualche modo è già aperta vedete già tutte le aziende in movimento un sacco di operatori un sacco di consumatori quindi quale preludio migliore per quattro giorni importanti due battute su ieri lega all'interno delle sue manifestazioni a un cluster molto importante che quello del food and beverage ci chiediamo da tanti anni da tanti anni organizziamo molte manifestazioni con questa che è la decima del numero di manifestazioni che organizziamo chiudiamo l'anno chiudiamo un anno 2018 molto importante in termini di risultati per questo comparto poi dopo vi racconterà in modo più preciso dettagliato un po questa nostra strategia in questo settore e quindi auguriamo che oggi sia l'apertura anche per questi due saloni di momenti importanti da fare di formazione di formazione di show cooking e di network per tutti gli operatori del comparto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti